Per un guasto alla cabina elettrica, la sede centrale di Salerno pulita in via Tiberio Claudio Felice nella zona industriale di Salerno è senza energia elettrica da questa mattina. I servizi di spazzamento e raccolta sono stati garantiti regolarmente e verranno effettuati anche quelli previsti nel pomeriggio, ma sono ferme tutte le attività amministrative. Ovviamente non funzionano neanche le linee telefoniche, per cui non sarà possibile mettersi in contatto con l'azienda. Salerno pulita si scusa per gli eventuali disagi che la mancanza di energia elettrica potrebbe arrecare ad utenti e fornitori e confida, tenendo conto del periodo fessivo, nella soluzione almeno in giornata del problema. Niente buste di plastica per la raccolta differenziata di carte e cartone a Salerno. A ricordarlo è Salerno pulita, che via social spiega, per differenziare carta, cartone e cartoncino utilizza le buste di carte e le scatole in cartone. Non usare buste in plastica o bioplastica, altrimenti la raccolta sarà inefficace, spiega Salerno pulita, invitando tutti i cittadini a raccogliere rifiuti in carta e cartone, in buste di carta o scatoloni.